Oggi parliamo ancora di sinusoidi, però vediamo questa volta come far sì che possano assomigliare un po' di più a un segnale reale, quindi come facciamo a far sì che si muovano ad una certa frequenza, con una certa ampiezza e magari con un certo sfasamento. Iniziamo subito. Oggi parliamo di angoli, tempi, frequenze e sinusoidi. Abbiamo visto l'altra volta che una sinusoide si può scrivere in questo modo, quindi y uguale sin di x, oppure se vogliamo usare il tempo sin di t, però non sappiamo per esempio come disegnare una sinusoide che rappresenta per esempio la tensione di rete che varia a 50 hertz e non sappiamo come rappresentare la sua altezza in modo che possa variare nell'arco di qualche centinaio di volt. Facciamo una piccola premessa sugli angoli. Noi sappiamo che l'angolo giro è 360 gradi, cioè se ho un orologio o una lancetta delle ore, questa fa un giro completo, fa 360 gradi. Abbiamo detto che esistono altri modi per rappresentare i gradi e uno di questi è quello in radianti. Questi sono gradi sessagesimali. Quando esprimiamo gli angoli in radianti si usa il pi greco. È un modo un po' strano, un po' particolare di misurarli, però diciamo ha senso. Esiste anche un terzo modo che sono in angoli decimali, va da 0 a 400, lo usano per esempio i geometri, per alcuni tipi di misurazione. E sono tutti equivalenti. Per passare da uno all'altro basta fare una proporzione. Con gli angoli irradianti, prima di andare avanti diciamo solo questo, che 2 pi greco è pari a 360 gradi, se faccio mezzo giro sono a pi, a un quarto di giro sono a pi mezzi, a tre quarti sono a tre mezzi pi greco. Per passare da uno all'altro basta fare una proporzione, e quindi dire questa cosa qui. Ora il mio angolo misurato in gradi sessagesimali sta a 360, che è il tutto, come l'angolo espresso in radianti, quindi alfa r, sta a 2 pi greco. Conoscendo l'angolo in gradi sessagesimali posso trovare quello in radianti, quindi quello in radianti si fa alfa r uguale, prendo i due estremi e li moltiplico, quindi alfa 0 per 2 pi greco diviso quello che resta che è 360. Vanno sempre a coppie queste. Oppure se volessi esprimere l'angolo in gradi sessagesimali conosco quello in radianti, faccio così, scrivo alfa sessagesimale uguale, prendo i due centrali, quindi faccio 360 per alfa r e lo divido per quello che resta, quindi il 2 pi greco. Poi c'è da fare qualche semplificazione, quindi qua ho il 2 e il 360 vanno via e quindi mi resta alfa in sessagesimali per pi greco fratto 180. Da questa parte posso semplificare anche qui, ho il 2 e il 360, questo diventa 180 e quindi ho che l'angolo in gradi sessagesimali è uguale a quello in radianti per 180 fratto pi. Ok, ora mettiamo un altro mattoncino. Noi sappiamo che la frequenza è uguale a 1 fratto il periodo, quindi se ci danno una frequenza espressa in Hz possiamo convertirla in secondi usando questo rapporto, quindi se questa è in Hz qui abbiamo in secondi. Una frequenza di 50 Hz è pare un tempo, devo fare 1 fratto 50, questo fa 0,02 e questo qua è il periodo, cioè quanto tempo ci mette la sinusoide a ripetersi. Ok, quindi da qui per tornare qui. Quindi questo qua è il periodo. Ok, ora proviamo a scrivere una sinusoide che dipende dal tempo ma tiene conto della frequenza e dell'ampiezza. Allora scriveremo p di t è uguale a una costante a per sin, scrivo tutta la scrittura e poi la commentiamo, 2πf per t più φ. È una lettera greca questa, si chiama φ e significa, visto che una f mi dà la fase. Allora, non guardate quello che c'è qui dentro, intanto a per sin. Se volete lo scriviamo semplificato, immaginate di avere invece che a 12 per sin di qualcosa, mettiamo t. Il sinusoide abbiamo detto che va da meno 1 a 1 e continua a ripetersi. Se la moltiplichiamo per 12 troveremo un segnale che invece che andare tra 1 e meno 1 andrà tra 12 e meno 12. Ho fatto un po' stretta però avremo un qualcosa del genere. Ora dobbiamo capire qual è il ruolo di quello che c'è qui dentro, quindi dell'argomento del seno. Iniziamo a guardare a questa scrittura, 2πf per t. La riscrivo qua, 2π per f per t. Abbiamo visto prima che f la frequenza la possiamo scrivere anche come 1 su t, quindi 2π per 1 su t per il tempo. Questo qua è il periodo della mia forma d'onda e questo qua è il 2π. Il 2π abbiamo visto prima in radianti e pari all'angolo giro, quindi 360 gradi. Allora stiamo dicendo, questo termine qui esprime una velocità. Quanto tempo ci mette la mia lancetta a fare il giro dell'orologio? Immaginate avere il vostro quadrante con la lancetta qui. Il percorso da fare è lungo 360 gradi o 2π e stiamo dicendo che lo fa in un tempo t, che è praticamente la velocità con cui la mia onda va su e giù attorno al punto di partenza. Quindi questa è una velocità angolare. Moltiplicando questa velocità per il tempo posso sapere esattamente il punto in cui si trova la mia sinusoide ed è questo che mi permette di inserire il tempo qui dentro e disegnare la sinusoide a mio piacere. Dico questo perché velocità uguale spazio fratto tempo. Se io voglio sapere la posizione della sinusoide farò velocità per tempo. Qui abbiamo una velocità un po' particolare perché è angolare ma ha la forma esattamente questa qua. Quindi in questo modo riusciamo a caratterizzare anche la frequenza. Manca l'ultimo pezzettino che è la fase. Se io disegno una sinusoide pura questa parte da 0 e va avanti. Invece della sinusoide pura, quindi questa qua sarà sin di x, voglio disegnare sin di x più 90. Quando la sinusoide è 0 dovrebbe valere 0. In questa seconda scrittura, questa qua in blu, quando ho la x pari a 0 in realtà ho 90 e quindi come se fosse già un po' più avanti. Allora vuol dire che parte 90 gradi prima e quindi avrà un andamento del genere, quindi è sfasata di 90 gradi. A questo punto dovrebbe essere chiara questa scrittura. Quindi la scrittura che abbiamo messo qui vi permette di definire, scrivere una sinusoide a vostro piacere. Se volete scrivere una sinusoide che oscilla tra più o meno 12 volt e da una frequenza pari a 100 hertz, ora la sappiamo scrivere, possiamo fare 12 per il seno di 2 pi greco per 100 hertz per il tempo più la fase. Se non ci interessa la mettiamo uguale a 0, quindi ci cancelliamo la fase e abbiamo finito. Spero che questi video sulla matematica siano abbastanza comprensibili. Non andiamo molto nel dettaglio ma sto cercando di darvi il minimo di competenze per comprendere quello che può accadere in un circuito magari più complesso con dei segnali che hanno quindi un fondamento matematico. Se l'argomento fosse troppo complesso fatemelo notare che cercherò magari di modificare il taglio. Non volevo abbandonarli, certo non farò magari una serie da 100 video, però almeno avere quegli argomenti, quei concetti fondamentali per capire poi tutta la parte elettronica che andremo ad affrontare. Bene, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani. Ciao!